che cosa all'epoca non lo so cioè che cosa ha significato ha significato l'impossibile che si può segnare con la mano Aradona ha fatto quello che non si può fare ha trasgredito è stato irregolare e quindi ha posto i fondamenti per me dell'arte devi essere irregolare devi trasgredire altrimenti non c'è nessun divertimento nel fare questo lavoro